Non si sono fermate né a Pasqua né a Pasquetta la solidarietà e l'assistenza nella città di Sciacca in favore dei più bisognosi. Anche ieri, in piena attività, la protezione civile e il mondo del volontariato, impegnati nella distribuzione di pasti caldi e dolci a famiglie in difficoltà e a centri di accoglienza per minori. Sono donazioni che vengono sempre da imprese del territorio cui va il nostro ringraziamento, hanno dichiarato il sindaco Francesca Valenti e l'assessore alle politiche sociali Gisella Mondino. In particolare, il Verdura Golf Resort di Roccoforte ha donato circa 190 pasti caldi per cittadini e famiglie in difficoltà, con due menù, con primo e secondo a base di pesce o carne. La pasticceria Dante, circa 100 vassoi con dolci siciliani. I beneficiari sono stati individuati dal settore affari sociali e dalle associazioni di volontariato che fanno parte del punto unico dei soccorsi Covid-19 del comune di Sciacca. I dolci sono stati recapitati anche agli operatori del pronto soccorso dell'ospedale, ai carabinieri, alla polizia, alla guardia di finanza, quale segno di vicinanza e gratitudine per il lavoro che continuano a svolgere per il controllo del territorio e la salute della comunità. La distribuzione è stata effettuata dagli operatori della protezione civile comunale, dalle associazioni dei vigili del fuoco in congedo e della guardia costiera ausiliaria, dai volontari della Croce Rossa e della Basilica di San Calogero. Nella giornata di ieri, inoltre, i volontari dei vigili del fuoco in congedo e della guardia costiera ausiliaria, come nei giorni scorsi, hanno continuato ad assicurare il servizio pronto, farmaci e qualunque altra necessità. Nel giorno di Pasqua, un pensiero è andato anche ai più piccoli e alle famiglie, per far sentire la vicinanza delle istituzioni e dell'intera popolazione che continua a donare in questo momento di difficoltà causato dall'emergenza. I volontari della protezione civile hanno distribuito a Pasqua 200 uova di cioccolato e 100 colombe pasquali a bambini e nuclei familiari. A ciò si devono anche aggiungere i pasti caldi donati dal ristorante La Lampare, le colombe con gli auguri del sindaco per gli ospiti della casa circondariale. Sono doni della città, della generosità di tanta gente che continua a sostenere la macchina degli aiuti e che ci fanno sentire comunità, hanno commentato il sindaco Valenti e l'assessore Mondino.